ciao a tutti benvenuti al mio canale grazie di essere qui con me anche oggi avete visto è arrivato il natale in questo video vi farò vedere un concerto del gospel e piccoli pezzi e anche dei babbi natali molto speciali allora andiamo sì yes non è vero i cieli e la terra risultano in coro vi diamo alleluia a questo tesoro è stata data che il Natale non finirà in questa giornata ma tutto il mondo vedrà la sua maestra grazie a tutti 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 grazie E' un tè a cioccolata? E' offerto da noi, dal gruppo spontaneo motociclistico. E cos'è questa cosa strana? Tutti in tanta festa con noi e insieme a voi. Speriamo che il popolo di San Giovanni venga... Guarda che bello, dentro la carcazza, come si chiama? Quella del formaggio, come si chiama quella del formaggio? Fondo di grana. Forma, forma di grana. Mamma mia che bello! Forma di grana. Dello caldo, tortellini al brodo. Ciao! Buongiorno! Guarda che bello! E' un bel pombo! C'è un bel pombo! Oh,perry Christmas! C'è un bel pombo! Vede, una bellissima sbignata, tanta bella gente che può riuscire a girarci, fare spesa, fare spesa. Cominciamo con i ragazzi che muovono con noi. Wow, 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 yay, very good lunch. Luce, so many they are. Oh my god, look at this. They are here with the motos. Who is on his merry way? It's Santa. Who wants nothing more than bring you joy? Who has got a flying sleigh but Santa? Who keeps track of every girl and boy? The whole world knows it well, as Saint Nick or Pernoel. And once a year he'll go, barreling through the snow. Who makes every Christmas gift at Santa? Who comes down the chimney late at night? Who gives every heart a lift a setter? Who gives every heart a lift a setter? Who is pulled by reindeer on his flight? Some has to have him go, putting on his show. Don't ask me how he's done in time. I just know he seems to do just fine. I just know he seems to do just fine. Wow! Wow! Il mese di dicembre mi piace per il Natale, per il compleanno di mia mamma, il mio, per le luci, per l'albero di Natale, per Pavo Natale, per amici e parenti, per stare insieme, perché sono giorni di festa. Però il vero senso del Natale è la nascita di Gesù, Gesù che è diventato uomo, ha dato la vita per noi, per i nostri peccati e ci ha reso liberi. Ringraziamo Dio per questo. Ma voi sapete perché Maria ha partorito in una mangiatoia? Se non lo sapete, leggete la Bibbia e lo scoprirete. Grazie per aver stati con me, se vi è piaciuto per favore fate un like e suscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima, Dio vi benedica e ciao, 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 ciao! Buon Natale a tutti! Auguri! Auguri!